benvenuti al nostro appuntamento con la cucina indiana oggi proviamo a fare un piatto estivo che si mangia nella vita quotidiana indiana e si chiama laita per farlo covorano 150 grammi di yogurt un po di sale latte pepe nero e cetriolo e pomodoro di tutto iniziamo a tagliare in pezzi piccoli il cetriolo e il pomodoro e ora tagliamo il pomodoro quando è tutto pronto mettiamo tutto nello yogurt aggiungiamo il sale pepe nero e aggiungiamo un po di latte perché non risulti troppo denso mescoliamo tutto per bene ed ecco il nostro laita sperando abbiate gradito vi auguriamo buon appetito grazie a tutti